Ma buon salve a tutti, come sapete è iniziato il nuovo anno e ho deciso di ricordare il vecchio anno con una compilation di video trash E che fai te ne privi? E no che non te ne privi, cioè è la base, dovrebbe essere la base questa Anche se andrebbe fatto l'ultimo dell'anno questo ma no, ho il best off da mandare avanti quindi sti cazzi Prima di iniziare io vi ricordo di seguirmi su tutti i social se ancora non lo avete fatto Di lasciare un bellissimo like e di iscriversi al canale perché ti prassi Bene direi di iniziare con questa compilation tutto il trash del 2021 Vediamo un po' cosa si cela Ma che cazzo Ma chi è sto pazzo? Ah vabbè questo, questo vabbè, tutti lo ricordiamo Questo me lo sono perso, sinceramente Ah ok Ok, ok 12 tecnologie naturali Eh che fa che? La quantità giusta da mettere sul viso è mezza Mezza pippetta, mezza pippetta sì, lo facciamo sempre le mezze pippette, soprattutto noi ragazzi Ok, la smetto di fare battute, no senso, squallide, chi ha capito ha capito Alla schiuma, oddio È ritornato fa schiuma ma non è un sapone Sta per dire, alla schiuma non è un sapone? No eh Fa schiuma ma non è un sapone I flash del Vietnam me li sono venuti Ricordandosi la famosa borra che l'ha resa famosa in tutto il globo, in tutto il web Però questa volta è, alla schiuma ma non è una birra Attenzione, cambiamo quest'anno No eh, ma non è una birra Ma voi siete dei disgraziati Aspetta, che cacchio era? Era Biden Ah sì, Biden che cade, vabbè Come cacchio fai? Salutiamo Biden che ci segue tutti i giorni Ciao Biden Se fosse iniziata alla campagna vaccinale Ho capito che c'è solo un pensiero nella testa Poi dicono che siamo noi maschi, noi ragazzi che abbiamo queste idee perverse Poi c'è lei che fa le campagne vaginali e non vaccinali ovviamente Ora negli Stati Uniti il presidente eletto Bill Biden Biden scusate Il grande presidente Bin Laden Meno male che sono una gaffe, meno male che non è esistito veramente questo presidente eletto Quindi quando vediamo un positivo, non è che uno è malato È malato di Covidis Ah, di Covidis Potrebbe cantare e fare un vero Oh Gesù Come con Ermal Metal Ma come anche con i nazi skin Certo, con i nazi skin Entrano i mani skin con i baffetti Non voglio ricordare personaggi storici Non voglio ricordare personaggi storici Assolutamente no Assolutamente no Ti rendi cosa nel mare Ti dici io la amo Mi hai portato Ornella Ce l'ho fanato Ce l'ho fanato Ce l'ho fanato Che ha detto, scusi La polizia di Firenze Ah, questa è bella Specializzata in rapine di orologi preziosi Adesso li vedrete in azione La particolarità in questo caso È che, come dire Chi vi racconta la notizia Cioè io Ha vissuto questa esperienza Cioè, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Una giornalista che è stata rapinata? Cioè, plot twist Evitami, evitami Togli Togli Ma che c'è Sto, don't wait Sto mesciata di merda No Una mesciata Tra le merda No Guarda che se no la smetti Greve, greve Cosa mi fai? Sono problemi, va bene Quali problemi? Chiudi la porta e faccia Eletameli, elencameli Quali problemi sono? Chiudi la porta e faccia Quali problemi sono? Eletameli Quali, quali, quali Quali sono i problemi? Eletameli Eletameli Quali sono i problemi? A me delle persone Mi c'è a san cazzo Quali sono i problemi? Eletameli Tu sei solamente uno steward E io sono Ma che c'è No, la bocca Allora, sta bene Un po' il seno pratico Io parlo quanto cazzo mi pare Ebbè, ebbè, giusto Spendere A questa lei, sta puttana Troia Smettila, dai Da che c'è Ma sei veramente un azzocco Stop, 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 stop Ma che cacchio fa? Ma è pazza Che caccia ha fatto? Io scapperei da quell'aereo Io scapperei Ma che cazzo Per le distanziamenti Sanificazioni Avvisi, cartelli L'unica Il tizio dietro No, rivediamo Rivediamo Sanificazioni Avvisi, cartelli Dove cazzo è caduto? Da politiche di contorno Parte Parte delle quali Grazie Bella questa urla Pavone ci accompagna Ah, è un pavone La discussione sul coprifuoco Se è arrivato il momento Di rimuoverlo O quantomeno Spostare in avanti L'orario Senti Senti Questo è il coronavirus Oh Gesù no Questo video no Questo video no Mamma mia Era una trasciata unica C'è La forza dell'ordine Si inginocchia Il virus è più potente Certo Ci comanda È praticamente Il nuovo Dittatore Ok, mi dissocio Anche L'imprenditore Addirittura i supereroi Hulk Batman Superman Tutti Ma attenzione Ma che Che Un bambino Che non lo guarda Negli occhi Un bambino Che guarda in alto Si gira Gli dà le spalle E guardate che cosa fa Stupendo Si mette A fare l'unica cosa Che avremmo dovuto fare Pregare Ma vai a cagare Ma vai a cagare Gesù Gesù No No Alza la sua mano santa Il suo braccio santo Che cazzo è sta trasciata Gesù Lo rimanda Assiste Alla fine E certo Dobbiamo tutti pregare Per far finire il covid Ma che cagò Quanto sono Tutuerco Così Bello questo balletto Mi piace Le suore Praticamente Tutte Inalipite Tipo Stando a guardare Con la chiappa Che si muove E mi piace Ha dei problemi seri No 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 Non si dice Non si dice Lei però c'è una faccia Con la santa Dice Guarda Me lo dicono in tanti Ma chi è questo Su un balcone Su un balcone No Questo è quello Ce la faremo Oh Gesù Oh Gesù Mi sta per nascere il mio figlio Ma sto seguendo la diretta Mi saluto Oh mio dio ti prego ti chiamo Ti sto per chiamare No È vero Ho paura di chi chiama Ma è vero Non è vero No Oddio che spettacolo Aspetta Lo leggevo il messaggio Ma sta nascendo davvero Tuo figlio Oppure no Ma no Sto al lavoro Ma dai Ma dai Trollata Stop trollata Andrò a stalkerare I profili Di Fedez e Ferragno Voglio vedere Quando vanno in diretta Su Instagram Che voglio fare Anche io la stessa cosa Voglio fare La stessa identica cosa Genio dell'anno Genio dell'anno Ah vabbè Questa l'avevamo già vista In una compilation Di trash Ma rivediamolo Per parcondicio Bachecca No 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 Il signore è incazzato dal rumore Spacca la cassa Ma non ho capito che è successo Cos'è successo Di zitti e buoni Il mattino dopo Rimangono solo i rivali A partire da chi Si è tatuato addosso Un titolo che rimarrà Ma vabbè Questo è un deficiente Che poi mi ricorda tantissimo Lollo Io sono Lollo Ma con l'omano Lollo Vittoria troppo presto E ora Può solo tenere Alti i calzettoni Ma che ca Questo è il ritorno Del classico Meme Oh Gesù Sti qua stanno sempre Tutti gli anni Non ho neanche i greenpacks Figuri lei Greenpacks Allora lei di qua Non passa Già immagino Cosa può succedere Già immagino Ma nemmeno in Dragon Ball Fanno ste cose Non so se arriva Natale Allora ma la donna Penso che c'è arrivata Cazzo succede Si sta sempre da Dio a Londra Comunque se potete fare un salto Secondo me è una delle città Più belle Certo Mi mandano a caccia in culo A Londra Ma andiamo avanti Andiamo avanti Puoi farla in gelosina Vabbè questo è Abbastanza Recente Bucca King A Bucca King Ricordatevi Bucca King E prenditi un Barry Barry Svion E il Bobby Vege E come ha detto Scusa Come ha detto Viene a Bucca King E prenditi un Barry Barry Svion E il Bobby Vege Va bene tutto Ma a stravolgere i nomi dei panini No Che dire signori Questo era tutto il trash Nel 2021 Si una parte L'avevamo già vista In altre reaction Perché io amo il trash Ovviamente Che fatene privi E no Spero vi sia piaciuta Ovviamente Lasciate un bellissimo Like Proprio sfondate il tasto Dei like Ovviamente Iscrivetevi al canale Perché è fondamentale Se volete seguire Tutti gli altri video Potete anche seguirmi Su tutti i social Possibili ed immaginabili Che trovate nella descrizione E detto questo Noi ci vediamo Alla prossima Chissà cosa sarà Lo scopriremo Soltanto Vivendo Vivendo Alla prossima Alla prossima Alla prossima